Ok, abbiamo già... già cammina sta macchina Ok, abbiamo la mappa, fantastico Presumo che dovremo andare Diamo un'occhiata, è bella grossa, devo dire Vicino a quest'icona qua Il viaggio rapido non è disponibile, giustamente Qua c'è il covo, qua c'è guida fino al cimitero In realtà dovremo andare lì E qua ci sono dei rottami Va bene, seguiamo la strada per il momento Non so ancora quanto registrare, non penso che farò una registrazione integrale del... Di quanto giocherò Perché penso diventerebbe troppo lungo Vedremo Non ho più carburro Fortunatamente, con il gas Vediamo la cosa c'è Vediamo la cosa c'è E vai Qualcuno ha lasciato lì del carburante Bene Perfetto Ma niente carburante purtroppo Guardate Guardate sta macchina Chiunque che era qui è lì è lì Lì è lì Lì è lì Lì è lì di usare C'è l'acqua Cosa c'è lì 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 Vamo alla mente Cacchio Questi qua non me le aspettavo Ok Vamo a mano Piano 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 Allora Vediamo un po' d'acqua Ma volevi Eh questo invece mi segue Ah Mi secca Mi secca Muori Al pelo Vediamo un po' d'acqua Eh Fa salire un bel po' la vita Bene bene Devo abituarmi un po' al tipo di combattimento Qua ci sarà del carburante presumo Questo bello pieno tra l'altro Bello pieno Dai fuoco Se entro nel Andiamo un pochino per Riempire Fai rifornimento Ok con X Paglio Paglio Eh Paglio L'alleno Paglio Vediamo un po' di Paglio Dite Paglio Per Qua teoricamente dovrebbe essere piena Presumo Sì Ah si praticamente si riempie in automatico Allora abbiamo risolto il problema Del carburante Sarebbe bello fosse così anche nella vita vera In magazzina tanica E vedere se Lo posso ancora recuperare Direi di no adesso me la dirà No forse Non so quante volte La posso recuperare E quante volte la posso mettere dietro No posso tenerne solo una Faccio lancia Ok Quindi andiamo Quindi andiamo Dannazione Niccino alla loro base Ok 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 quindi Prendiamo la tanica Sì qua ci spiega come Come Far esplodere le cose Ok Adesso Il problema è In che modo Lo riesco a fare Esplodere Non avendo più Munizioni Così Così entriamo nel veicolo Ah Devo speronarla forse Direi proprio di no Direi proprio di no Allora È evidente che Devo Devo farlo saltare Con la tanica Il problema È che non ho munizioni E quindi da qualche parte Dovremmo trovare Delle munizioni Presumo Spaventa pastri Accampamenti Vediamo un pochino La mappa Con Select Forse Lì troveremo Delle Munizioni Forse Forse Dannazione Attiva Detattiva Legge Red Ok Qua L'ottami Zero su due Non avevo ben Esplorato Qua dentro Abbiamo ben 18 Rottami C'è un grosso problema Però Adesso questa qua La potremo Ricaricare Sulla nostra Vettura Aspettate Dai fuoco Ok Quindi Intanto La immagazziniamo Quindi dovrò Dargli fuoco E poi Lanciarla Vediamo Vediamo se È così che funziona Il tutto Vuol dire che Queste parti di guida Non mi dispiacciono Ok Vediamo Recuperiamo Diamo fuoco E lanciamo Perfetto Cimitiero 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 Sono sorte di mine Sono sorte di mine Cimitiero Ok Molto bene No Dannazione Questa l'ho presa proprio in pieno Via 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 Ufff Che bello Questa povera macchina È mezza Sbrucciacchiata Non ho subito Ma non mi dispiacciono via 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 ok ma sta riparando scuola carried la praticamente distrutta quasi completamente e ancora si lamenta che non è veloce Ah, meno male che nessuno ci rompe le scatole Bene Ce l'ho quasi arrivato, eh Non mancava tantissimo Oh 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 Ok Qua ci sarà da combattere sicuramente Rottami zero su tre Ah C'è qualcosa qui Oh 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 Ottimo abbiamo trovato una torcia Usa la torcia per orientarti nelle zone buie Però posso anche spegnerla volendo Non è che sia così buio Non è che sia così buio Per il momento sembrano solo osservarci Ma presto ci attaccheranno Oh 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 Bene Questo ce la teniamo però Questa sembra una sorta di Di motorino Oh Oh Adesso dobbiamo scegliere una carrozzeria Tra l'altro Ma sarà solo una questione Sarà solo una questione estetica o ci saranno anche altre Questa Questa l'abbiamo saccheggiato al 100% Fantastico Vediamo un pochino Interagiamo Interagiamo Furnace Mostra Ok aspettate 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 Si vedono meglio in questo modo Così Naviga Allora Questa è la prima Shovel face Faccia da Vanga Eh questa non è male Wild hunt Penso che sarà un Una di quelle più scelte perché Anche questa non è male Da Dai rolla Death rattle Ma se faccio mostra A B X Ah te la fa vedere In questo modo Questa Mh Non è brutta La La fornace Mh Questa penso che sia la scelta Più comune Questa non mi piace per niente Sono deciso tra questa 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 anche carina Però penso che andrò su questa qua Questa è la più figa sicuro ma Sarà Sarà quella che tutti scelgono Sarà quella che tutti scelgono Solo per questo motivo Penso che non la sceglierò Sono deciso tra questa Questa non mi piace per niente Questa o questa Questa Opterò per questa qua mi sa Penso che prenderò questa Faccia da vanga Faccia da zappa Sono indeciso Sono indeciso Wild hunt Eh non lo so Non lo so Non lo so Anche Dairolla non è brutta però eh E' strana come Ho un muso strano Se si potessero girare Ma purtroppo Non si può Non si può Navigare Questa non mi dice niente Allora scegliamone una Andiamo con questa qua Ah non lo so Ah non lo so Questa Questa No questa O questa Prendiamo l'ultima Dairolla Ale Ok Usa il bottone destro Per schivare attacchi che sono troppo potenti per essere parati Ovvero quando c'è quella sorta di Icona Ok 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 Bene Boom Coltello Coltello Vale devo fare attenzione Ah potevo giustiziarlo col coltello Qua mi sa che ci resto secco Sono troppo non posso Sì Sì sono morto Prima morte del gioco Continuiamo Ok 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 Oh Grazie Forte Recuperiamo il coltello Recupera il coltello Ok Allora Allora ahia Aia Posso scappare? No eh Aia Maledetto Fare molta attenzione Allora Devo controllare bene Le I pulsanti sullo schermo Cominciano a esserci Tanti nemici Ok 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 Scappo Io scappo Ok Maledetti Ah Sono di spalle Difficilmente Posso E anche A volte non si vedono Bene Ok Ok Muori Va bene Fatemi capire Da che parte andare Qua no No Distruggi Scappa Ma Mi sono già pentito Della scelta Va bene Combattimento Combattimento su veicolo Allora Allora Usa Il tasto sinistro Più B Per mirare E sparare I punti deboli Con il fucile Ok Usa X e L Per eseguire Uno speronamento Laterale a sinistra O a destra Ok Ho già dimenticato Tutta Allora Allora Mi respara Ah ok 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 Mi abbiamo investito Uno così tanto Per Ho ancora una cartuccia Cioè le cartucce Sono veramente rare E te lo fai in automatico Ok Praticamente ti Poi ci Speronamento Laterale X e L Ok 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 Ho capito Non è così Così difficile X e L Missione storia completata Magnum Opus Chamboket la chiama Magnum Opus Non è ancora una macchina Ma ha del potenziale Abbiamo trovato una carrozzeria Ma c'è ancora parecchio lavoro da fare Prima che sia pronta per lo scontro Allora direi Direi di andare al santuario Al covo di Chum E E E lì salutarci Doh Allora non è così male Sta macchina Ok Ok È veramente brutto Un'espressione Strana Va bene Qua sta pensando di fare un motore Sembrerebbe Parlando col tipo Inizieremo una nuova missione Questo lo faremo presumibilmente La prossima volta Se dovesse esserci Abbiamo ottenuto un coltello Ancora Non sono bravo Nei combattimenti Comunque Insomma Per il momento Direi di fermarci qua E Di là si esce Bene Direi Direi che posso fermarmi qua E Fatemi sapere se Il video vi è piaciuto Come al solito E Alla prossima Ciao a tutti Ciao Ciao